A momenti uno scoppio di volatilità è previsto per quanto riguarda i mercati Lcrypto perché siamo in una fase veramente di bassissima volatilità, la più bassa di sempre, vi faccio vedere questo grafico che ho preso da Twitter ragazzi dove le bande di Bollinger vanno a indicare una volatilità veramente bassa, cioè le bande sono strettissime come vedete in questo punto, quindi quando le bande sono veramente molto strette di solito arriva un'esplosione di volatilità. E a brevissimo che arriverà lo scopriamo in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi alle 20 ci sarà il PONC con la comunicazione dei dati relativi al tasso di interesse, ormai scontato l'aumento, quello che conta più di tutti non è in effetti l'aumento del tasso di interesse, bensì quello che Powell dirà e la questione degli investitori sarà collegata al concetto se i tassi vanno bene così deve fare l'ulteriore aumento che aveva indicato, quindi un altro 0,25 oppure semplicemente va bene in questo modo perché l'inflazione sta rientrando eccetera, secondo me farà un altro aumento di 0,25 poi nell'autunno, ma la questione è come la prenderanno i mercati, cioè le GESON FAIR, rien va plus, sell on news oppure vedranno la questione messa bene. Allora bisogna ragionare un po' a larga scala e comprendere questa cosa perché un po' il concetto di quello che faranno probabilmente i mercati classici nei prossimi mesi potrebbe influenzare anche i mercati e le cripto, anche se abbiamo visto che la decorrelazione, la correlazione di Bitcoin con Nasdaq 100 per esempio in gli ultimi periodi è veramente venuta a meno e quindi questa questione ragazzi potrebbe essere in effetti l'anello, l'anello debole. Allora oggi bisognerà andare a guardare un po' appunto quello che ci aspettiamo relativo ai tassi all'evento e al discorso del FONC, poi la questione di Nasdaq perché mi preme farvi vedere una scadenza temporale molto importante sul Nasdaq e poi ragionare sulla questione della volatilità che abbiamo visto. Allora pronti? Via, iniziamo alla questione legata ai dati macroeconomici di cui stavamo parlando. Allora dati macroeconomici alle 20 decisioni del FONC, i tassi aumenteranno di uno 0,25, è scontato circa il 99% degli utenti ormai pensano a questa cosa, quello che è importante quindi alle 8 e mezza sarà la questione legata al discorso della Fed e quello che Powell dice, cioè basta un altro 0,25, la questione va bene, insomma abbiamo visto tutto quello che è connesso all'economia, al PIL, al tasso di disoccupazione che fondamentalmente era quello che era la cosa più importante, ne abbiamo parlato ormai sette mesi fa ragazzi, tutto è andato secondo quelle linee macroeconomiche, cioè un soft landing in questo caso è avvenuto, per la seconda volta in 30 anni circa e questo soft landing non è detto che poi non causerà la gestione poi nei mesi futuri, questo è possibile, però intanto è avvenuto un soft landing, l'economia non ha risentito il rialzo dei tassi, i tassi sono molto alti, probabilmente reagirà tra poco, però al momento abbiamo visto PIL e tasso di disoccupazione degli Stati Uniti essere stabili, il PIL è alto ancora molto di più di quello che era l'attesa prima di questa fase di ristretta monetaria e poi il tasso di disoccupazione che è l'altra volante, cioè la variabile principale che la Fed va a monitorare per capire se effettivamente può continuare ad alzare i tassi o meno, è addirittura troppo basso, quindi il tasso di disoccupazione è troppo basso rispetto anche alla disoccupazione naturale per gli Stati Uniti, quindi ragazzi probabilmente Powell sta arrivando al suo target, quindi il 0,25 in più continuerà ad alzarlo, sia questo PONC probabilmente, il prossimo no, ma quello dell'autunno sì, e da lì in poi probabilmente si fermerà per un bel po' di tempo in attesa della reazione in effetti dell'economia, quindi credo che i giochi siano fatti per quanto riguarda l'inflazione ragazzi, a meno di shock che non sono prevedibili ora, cioè altre crisi che appunto oggi non sono nei dati eccetera, non riusciamo a vedere nei dati, la questione inflazione secondo me può essere messa da parte, adesso la questione si sposta alla reazione che l'economia potrebbe avere da settembre, ottobre in poi per quanto riguarda la questione recessiva, questo però non toglie il concetto che i mercati reagiranno, comunque cercheranno di prendere una strada, per cui la questione del sell on news nei prossimi tre mesi, almeno ragazzi fino alla fine di questa fase di valzista che dovrebbe avvenire verso ottobre circa dei tassi di interesse, potrebbe in effetti innescarsi ragazzi, perché? Perché i mercati li abbiamo visti, soprattutto quelli classici, e vi rimostro Nasdaq 100, crescere notevolmente in tutto l'anno 2023, quindi qui eravamo a dicembre 2022, l'anno 2023 per quanto riguarda Nasdaq 100 è stato un anno col botto al momento, quindi siamo di fronte a un più 43% con una punta del 50% di rialzo, quindi un rialzo è assolutamente fuori corda rispetto a tutti quelli che erano i discorsi che si vociferavano prima del rialzo dei tassi, distruzione di master e delle cose insomma eccetera, perché ragazzi? Perché i mercati anticipano quello che era la situazione, evidentemente ancora una volta i prezzi conoscevano questo soft landing molto più degli analisti e molto più di quello che effettivamente ci potevamo aspettare ragazzi, e questo è un'innegabile ancora dimostrazione del fatto che il prezzo è l'unico vero indicatore realistico, assolutamente è l'unico vero indicatore che anticipa, cioè non anticipa, è appunto se stesso, ma è il meno ritardato, diciamo così, rispetto agli altri e soprattutto è quello che ha sempre ragione, trend is your friend ragazzi. Ma questo concetto ci dà anche un altro discorso, intanto questa fase probabile di struttura rialzista può essere che volge al termine, ci sono dei concetti da fare sulla questione dell'analisi ciclica che porterebbe intorno a ottobre circa la fine di questo ciclo, ma c'è ancora una volta un'anomalia tecnica anche in questo caso perché come su Ethereum, anche su Nasac 100 c'è una specie di lingua ragazzi, cioè questo doppio minimo, cioè questa struttura da 76 giorni di trimestrale che potrebbe appartenere al precedente ciclo e non a quello successivo. Se fosse effettivamente così, allora il ciclo annuale di Nasdaq è iniziato a dicembre, non a ottobre. E in questo caso avremmo un paio di mesetti in più, circa 60 giorni in più di ciclo annuale, quindi ci sposteremo a ottobre ma a più o meno dicembre, fine dicembre dell'anno 2023 per la chiusura di questa struttura ciclica annuale. Attenzione perché sul Nasdaq, iniziamo a parlare anche della questione tecnica, esiste un problema anche di struttura di analisi tecnica. La media mobile che stiamo vedendo ragazzi è quella che guida questa fase di alzista, un suo breakout e siamo vicini a questa fase, sembra che il mercato appunto abbia fatto questo pump ma non ce la faccia, un suo suggestivo breakout al ribasso sarebbe rischiosissimo. Il livello invece da tenere monitorato è circa 14.900. 14.900 per quanto riguarda Nasdaq circa 14.700 qualcosa, 14.900 risulta una super livello di supporto. La perdita di questo livello inverte il trend di Nasdaq 100 e quindi manda il vice re del mercato old, primo LSP 500, lo manda in chiusura di analisi ciclica annuale e quindi non ce n'è per almeno tre mesi poi di fase di alzista, quindi si innesca il concetto del mercato cammello ragazzi. Allora, questa punta realzista di Nasdaq secondo me influisce molto bene anche su Bitcoin perché? Perché in ogni caso qui abbiamo una fase di struttura ciclica che può essere identificata con 70 giorni che è nella sua metà, quindi la sua struttura di metà porta un minimo come quello che sta avvenendo. Ora, nulla vieta a questo mercato di provare l'ultimo app, cioè di tentare l'ultima fase di alzista e poi magari fare una cosa del genere per chiudere il ciclo annuale eccetera. Però questa gambetta, questa gambetta qui potrebbe in effetti innescare quello che stiamo attendendo su Bitcoin da un po' di tempo, cioè concettualmente guardiamolo sul grafico del future di Bitcoin e non, anzi mettiamo il Bitcoin classico così siamo più tranquilli. Mettiamo invece Binance, Bitfinex, ok. Potrebbe innescare l'ultimo pump, l'ultimo appettino che può in effetti coincidere con il tentativo di breakout di questa fase. È un allungo finale un po' magari eccessivo prima della fase di chiusura. Allora, su Bitcoin la struttura del ciclo annuale è ancora nella sua metà, quindi c'è molto spazio, vedete? C'è molto spazio temporale. Secondo me una discesa da qui è prematura, una discesa duratura dico ragazzi, da qui è prematura. Secondo me il mercato tenterà ancora di fare barra di congestione, di rimettersi in una barra, di continuare a fare così, tentare magari di fare dei break, cioè perderà tempo. Quindi la questione volatilità che vi ho fatto vedere all'inizio del video. Questa volatilità che è bassa potrebbe stranamente perdurare per un po' di mesi. Cioè nulla vieta in effetti ragazzi alla volatilità di perdurare. Ora vi svelo un trucchetto da questo punto di vista. La volatilità è un indicatore di mercato estremamente ciclico, molto più dei prezzi. Perché la volatilità è proprio risente in maniera determinata della emotività e della questione riflessiva emotiva umana. Questo significa anche che la parte ciclica che è ovviamente legato a questo viene molto a essere impattante sulla volatilità. Quindi la volatilità ragazzi quando ha un trend decrescente, perdura questo trend decrescente, infatti la volatilità di Bitcoin ancora in questo caso sta in una fase decrescente ma non è un trend decrescente che è iniziato da tanto tempo. È iniziato da un po' di tempo. Potrebbe perdurare per altri due mesi. Quindi nonostante la questione di questo grafico che vi ho fatto vedere un po' all'inizio è giusta. Cioè ci sta indicando che le bonlinger sono bassissime e quindi uno scoppio di volatilità che non è assolutamente coincidente, ve lo dico in maniera chiara, con uno scoppio di volatilità di un giorno magari all'uscita dei dati sul tasso di infrazione di oggi, sulla scusate, il rianto dei tassi di oggi non è quello. Nel suo discorso di Powell è mai una volatilità che dovrebbe perdurare per un po' di tempo. Cioè mi riferisco a queste questioni qui, cioè 4, 5, 6 giorni di fase rialzista che spingono in maniera consistente. Tanto è vero che su questo grafico che ha 1V, quindi time frame weekly, il rialzo della volatilità è avvenuto solo con la partenza del ciclo annuale di Bitcoin. Gli ultimi pump and dump di Bitcoin, questi qui, non hanno intaccato quel rialzo della volatilità. Giusto per farvi comprendere come la volatilità essendo ciclica potrebbe appunto perdurare nella sua fase di passista, poi a un certo punto scoppierà questa volatilità, però teoricamente lo scoppio di volatilità che potrebbe muovere quel grafico che vi ho fatto vedere non è uno scoppio di volatilità di breve periodo, deve essere di medio-lungo periodo, quindi sostanzialmente o una chiusura di un ciclo annuale importante, molto ribassista, oppure un'anomalia e quindi uno scoppio rialzista che va a fare il massimo del ciclo annuale, però importante ragazzi, questo significa importante di 15.000 dollari, ok? 10.000 dollari rispetto a Bitcoin, non una cosa di 2-3.000 dollari. È questo l'unico modo per far muovere quella linea che vi ho fatto vedere in questo grafico. Allora, prima o poi avverrà, lo sappiamo, qui per esempio vedete c'è stata questa fase di passista e poi bam, questo scoppio di volatilità è iniziato così, per esempio, quindi deve essere consistente, quindi un rialzo o un ribasso consistente almeno intorno al 10-12%, 15% del mercato. Lì si muovono un po' i giochi. Ora, detto questo, la questione ciclica secondo me possiamo desumerla in questo modo, c'è una data che adesso vi faccio vedere, è una data molto importante che potrebbe essere anche vista da Bitcoin in maniera consistente, perché qui ragazzi Bitcoin è da una struttura ciclica mensile, 40 giorni, sembra veramente un po' una struttura arrivata alla chiusura della sua ciclo mensile, il precedente aveva fatto 52 giorni perché non sta facendo più i mensili da 30, ha diviso in sostanza in tre pezzi un trimestrale l'ultima volta, qui potrebbe tranquillamente continuare a scendere per un po', fare poi in sostanza la metà di questa struttura ciclica che potremmo identificare così, ve l'ho fatto vedere nell'altro video, e poi riprendere una fase up. Questa fase up potrebbe essere consistente e magari far impattare la volatilità oppure più semplice che faccia una cosa del genere. Ora, una cosa del genere dove ci porta ragazzi? Ci porta a ottobre, questo è il problema settembre-ottobre, che coincide in sostanza con una close anche importante di questa fase ciclica di Nasdaq, cioè di questi 60-70 giorni di Nasdaq che potrebbe appunto essere ribassista e poi alla fine di Nasdaq qui abbiamo un grande punto interrogativo perché dovremmo capire se anche Nasdaq stesso va a chiudere l'annuale poi intorno a ottobre oppure a lunga e questa struttura è stata una lingua, come vi dicevo, appartenente al vecchio ciclo annuale e non al nuovo. Quindi se fa una cosa del genere ce ne accorgeremo subito. Quindi questo dato su Bitcoin è molto delicato. Ora, io propendo ancora per una questione long. Io in Academy all'inizio settimana ho pubblicato l'operatività che vorrei seguire questa settimana da domani in poi ed è un'operatività long perché mi interessa l'ultima parte di questa struttura rialzista perché in effetti uno scoppio di volatilità potrebbe tranquillamente avvenire anche al rialzo su Bitcoin. Quindi anche se la soluzione ciclicamente più corretta sembrerebbe una fase di leggero rialzo qui e poi una fase di ribasso, chiudere questa fase qui, che potrebbe essere interessante anche andare a monitorare poi per i cicli successivi. Attenzione, non è pericolosa una fase di ribasso nel medio periodo di questo tipo non impatta col mercato, anzi può dare strancio anche a nuovi massimi verso la seconda parte dell'annuale. Questo giusto per specificarlo, però è un po' la rottura di scatole perché perdere il 15-20% ovviamente dà fastidio. Perciò va tradata questa cosa. Perché il long allora? Perché ragazzi, quella è la via più tecnicamente più standard. I mercati però a volte eccedono, quindi cosa fanno? Prima magari di intraprendere una cosa del genere ci vanno a mischiare le carte, vanno ad anacquare il vino e quindi cosa fanno? Spingono al rialzo, magari addirittura prova a fare un break di questo massimo, poi un feicone gigantesco e scende in questo modo. Allora però questa parte qui è pericolosa non tradarla perché se non la tradiamo al rialzo e siamo fuori da questa fase di alzista, qui poi diventa troppo tardi per entrare, soprattutto il mercato ha mano libera di farci questo giochino così e noi siamo rimasti al palo, perdiamo il treno e se quell'analisi appunto è sbagliata e poi magari va a fare una cosa del genere dopo e noi partiamo non da qui ma da qui, noi ci siamo persi tutto a questa campare rialzista perché attendavamo uno scenario. Quindi lo scenario probabile è quello che vi ho detto però la fase iniziale di questo scenario va comunque trattata per non farsi spiazzare dal mercato. Questo è un trucchetto, portatevelo a casa ragazzi, è fondamentale qui ragionare proprio di astuzia, capacità tecnica del trader eccetera. Va bene, detto questo vi ho cercato di spiegare un po' più o meno la questione di breve, venerdì vediamo dove è arrivato il mercato, oggi ci sono i dati, c'è il discorso di Powell e la conferenza del PONC quindi vediamo che cosa succederà e da lì poi tiriamo un po' i remi in barche e cerchiamo di capire appunto quale potrebbe essere in effetti lo scenario che Bitcoin potrebbe prendere. Attenzione ad agosto perché agosto è un mese un po' bastardino perché di solito gli istituzionali vanno in vacanza a luglio, non ad agosto, quindi ad agosto si lavora alla grande sui mercati finanziari per cui state attenti perché a volte sotto l'ombrellone arrivano gli schiapponi e anche negli anni scorsi nel mercato classico ragazzi agosto a volte è fatto danni veramente indicibili. Vi ricordo anche la crisi limana ha scoppiato agosto-settembre 2008, quindi giusto per intenderci. Va bene, per oggi è tutto, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa view, è una view interessante, uno scoppio di volatilità immediato oppure bazzichiamo ancora in questo limbo e ci prendiamo un po' di tempo per poi dettare diciamo le regole del gioco. Io comunque la mia operazione verontetta e la seguirò. Fatemi sapere anche voi che cosa fate e che cosa state facendo. Ciao!